buongiorno giovanna buongiorno trip son grazie di aver accettato questo mio nuovo invito perché dovete sapere che è uscito il sequel di quello che avevamo visto l'altra volta insieme questo è l'ultimo è l'ultimo libro su questo tema così controverso ma così interessante che sono i the magic mushroom giustico di magici seguo comunque le sostanze psichedeliche in genere diciamo quelle soprattutto di origine naturale avevamo visto il libro precedente che personalmente mi era piaciuto moltissimo perché al di là delle sostanze psichedeliche che sono che sono il tema base del racconto diciamo così l'avevo trovato un libro molto spirituale perché utilizzava appunto queste sostanze come uno strumento di ricerca di esplorazione di crescita interiore e lo faceva lo proponeva in maniera a mio avviso molto competente e molto profonda come appunto avevamo visto nella puntata precedente questo secondo libro secondo me è ancora più bello del primo perché è ancora più profondo io non lo so se sei partito da magari domande o quesiti che sono venuti fuori dal dalla prima puntata però trovo davvero che questo secondo testo sia molto 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 spirituale al di là del dell'esperienza proprio in sé che viene che viene esplorata viene trattata e viene proposta in maniera molto mi pare attenta cioè con la con la volontà di spiegare anche tutti i rischi che questa cosa può comportare e di fare in modo che il lettore il fruttore non non finisca autonomamente nei guai diciamo cosa che ovviamente non è così probabile come si potrebbe pensare perché come per tutte le cose basta farle bene e non succede niente però questo libro l'ho trovato ancora più interiore sbaglio sì non sbagli nel senso che in effetti un po è stato sollecitato da domande da riflessioni nei contatti con i lettori che mi hanno scritto però ecco tutto poi nasce in realtà dalla dall'osservazione che l'esperienza psichedelica corrisponde di fatto all'esperienza della vita la vita stessa è l'espressione di chi siamo in qualche maniera tante tradizioni diverse affermano che la realtà è uno specchio che ti rimanda esattamente quello che sei che nulla accade per pura casualità viste poi soprattutto in retrospettiva cioè riguardando indietro ti accorgi veramente di come tante cose erano in qualche modo come se fossero preparate per te conoscere qualcuno certe situazioni apparentemente casuali hanno poi determinato delle svolte della 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 vita e quindi questo questa regola a questa regola non fa eccezione neanche quella finestra temporale dell'esperienza psichedelica in cui ti ritrovi immerso ancora in maniera più evidente in quello che sei e quindi tutto ciò si manifesta in qualche modo più con un'amplificazione con una intensificazione con delle distorsioni o come anche delle caricature quasi come se avessero l'obiettivo di farsi vedere con maggiore chiarezza perché tu altrimenti non le riconosci in in te stesso e quindi questa questa proiezione all'esterno te le rende più più visibili e quella quindi è un'occasione per poterci lavorare sopra grazie alla maggiore evidenza che hanno ma grazie anche al supporto che hai interiormente dall'uso di di queste sostanze io adoro i funghi perché sono completamente naturali così come li trovi in natura li raccogli e li mangi con questo non voglio dire di andare in giro a raccogliere i funghi perché è facile confondersi e ci sono anche dei rischi concreti di intossicazione o anche di avvelenamento quindi però voglio dire hai un accesso immediato e sono portatori anche di non sono sostanze chimiche e basta sono anche portatori di di una qualità di un'intelligenza di un di una qualità di intelligenza che esiste nella natura e che esiste anche secondo me in modo particolare nei funghi che non casualmente ritengo hanno anche l'appartenenza a un regno che è proprio loro che è intermedio tra quello delle delle piante e quello animale i funghi sono sono proprio un genere a sé e un regno a sé e quindi hai da una parte la migliore visibilità una maggiore chiarezza di vedere tante cose che ti riguardano e dall'altra parte anche sostegno di questa intelligenza che è benevola vuole la nostra evoluzione vuole il nostro bene è l'espressione chiaramente specifica di un'intelligenza più ampia e quindi essere consapevoli di questo e fare un lavoro intenzionale che vada in questa direzione ci permette di accedere a delle risorse che ci arrivano da questa dimensione naturale questo contatto con questa grande intelligenza che ci aiuta e ci permette quindi di poter comprendere delle cose io in tutto questo secondo libro affermo ad esempio che aver capito qualcosa non è averlo compreso però comprenderlo richiede possibilmente di avere degli strumenti come posso dire cognitivi di aver capito qualcosa e quindi ancora di più l'evidenza è che se tu fai qualcosa in termini di cercare di capire di studiare di metterti in discussione nella vita di tutti i giorni poi quando sei all'interno di un'esperienza di questo tipo sei nelle migliori condizioni per poter fare dei collegamenti proprio intuitivi cioè portare quello che hai capito in termini proprio di farlo diventare comprensione parlo tuo in qualche maniera e questo è secondo me il modo per generare dei reali cambiamenti dentro di te perché quando esci da un'esperienza in cui hai compreso certe cose che prima avevi solo capito non sei più la stessa persona di prima cioè c'è stato letteralmente un cambiamento una trasmutazione interiore in questo senso i funghi sono veramente uno strumento che è in grado di immergerti profondamente dentro certe esperienze con una maggiore capacità di fare delle delle connessioni interiori e questo quindi ecco se uno lo fa sapendo che può farlo anche semplicemente sapere che può farlo fa una grossa differenza ecco questo libro in qualche maniera vuole essere un aiuto a prepararsi a capire che le regole del gioco dell'esperienza ma anche della vita più in generale sono quelle e quindi fornire una serie di strumenti specifici che ti aiutano a fare questo tipo di lavoro c'è anche infatti una biblioteca la chiamo in fondo al libro perché studiare leggere ampliare nutrire la mente di di idee di concetti di è il miglior modo poi per poterlo poter sfruttare al meglio l'esperienza interiore sì quella che dici è una vera e propria biblioteca perché appunto l'appendice finale è una normalmente e si mette la bibliografia invece in questo libro c'è proprio un diviso per sezioni ci fornisce proprio delle degli stimoli per andare ad approfondire quello che che nel libro magari in alcuni ambiti è stato solo accennato anche se devo dire che per quel che riguarda il tema del libro è sì una volta detto questo per quanto riguarda il capire appunto a tutti gli strumenti che gli servono poi appunto come dici tra capire comprendere c'è una differenza abissale che a mio avviso la differenza tra la conoscenza e la saggezza e che passa appunto per l'integrazione e per l'esperenziare quello che abbiamo abbiamo visto solo in teoria comunque per la prima parte del viaggio sicuramente questo questo questi testi perché in realtà sono com'è che si fa proprio complementari io ho trovato che sì che fossero proprio uno una sequenza dell'altro un po finito il primo per quanto fosse completo in se stesso leggendo poi il secondo dici a vedi che c'era qualcosa ancora da dire è stato un lavoro molto lungo più il primo è venuto fuori in qualche maniera senza che io me ne accorgessi letteralmente l'ho iniziato pensando di mettere a posto degli appunti ordinandoli in funzione poi di condividerli con con amici che mi chiedevano sempre le stesse cose quindi per evitare anche di dimenticarmi di omettere qualche cosa detto metto giù nero su bianco e poi scrivendo scrivendo è diventato un libro e me ne sono accorto da un certo momento in poi invece secondo era sapevo cosa volevo dire però poi riuscire a dirlo in una forma che fosse strutturata che seguisse un percorso che fosse comprensibile che fosse anche voglio dire aiutasse le persone una riga dopo l'altra una pagina dopo l'altra andare avanti e quindi insomma fare un certo tipo di percorso è stato difficilissimo mi sono reso conto che se vuoi imparare qualche cosa devi tra virgolette insegnarlo e quindi un anno e mezzo di lavoro proprio una full immersion con tanti ripensamenti tante riscritture tanti momenti di crisi non ci riuscirò mai a dire questa cosa come vorrei o comunque rendere può dirlo in modo adeguato insomma adeguato vuol dire un linguaggio che non sia che sia semplice ma non banale nel senso trovare il giusto equilibrio perché di libri che fanno anche discorsi molto elevati ce ne sono però nella mia percezione spesso sono testi da addetti ai lavori e quindi sono più di scambio tra persone che già hanno la padronanza di quello ma non non sono adatti a a una condivisione più ampia e visto che questo argomento è diventato sempre più noto a un pubblico via via più più ampio perché articoli su riviste su quotidiani piuttosto che documentari addirittura anche delle serie tv hanno cominciato a trattare questo argomento su che ne so netflix su prime su quindi cose per veramente rivolte a un grande pubblico non specializzato ecco allora diventa diventa importante per questo motivo insomma in qualche maniera creare un collegamento tra a che bello mi piacerebbe come faccio ecco e approfondire capire un po quali sono le regole del gioco perché abbia senso fare un'esperienza di questo tipo e non sia invece come guardarsi un'altra serie su netflix per esempio cioè il viaggio psichedelico non è come andare al cinema perché proprio recentemente mi è capitato per fare un test una prova ovviamente assunto una piccola quantità piccola per me di funghi tre grammi e mezzo è stata un'esperienza difficilissima veramente molto 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 impegnativa e di esperienza ne ho tanta e forse anche quella è stata utile ovviamente per farmi comunque scegliere di rimanere nell'esperienza e non cercare di fuggire zucchero o altre cose che magari possono aiutarti a rientrare più in contatto con il corpo e quindi a diminuire l'intensità dell'esperienza che in quei momenti e soprattutto sul piano mentale sul piano emotivo riportarsi nel corpo per esempio aiuta ho deciso di no voglio rimanerci vedere cosa succede come va questo per dire che è sempre necessario mai sottovalutare la sostanza mai sopravvalutare se stessi e veramente sono convinto dopo questa esperienza che è stata proprio il 31 di ottobre pochi giorni fa che quello che ho scritto in funzione di prepararsi adeguatamente creare uno spazio che sia sicuro che utilizzi tutta una serie di elementi che si rivolgono direttamente al proprio inconscio quindi utilizzano immagini emozioni perché quello è il linguaggio che il nostro inconscio capisce meglio e che siano quindi in certi momenti magari possono essere difficili poter accedere a l'immagine il simbolo l'oggetto che siano significativi per me che siano un'immagine di un maestro un oggetto sacro insomma quello che ognuno poi può trovare il suo i suoi riferimenti utili in quei momenti sono veramente salvifici sono quelli che ti rimettono in qualche maniera in connessione con un qualcosa che ti impedisce di stare male perché in certi momenti possono essere veramente molto molto brutti quindi ecco questo libro a maggior ragione dopo questa esperienza sono convinto che sia utile per tirar fuori il meglio da qualsiasi esperienza una cosa su cui insisti molto su tutti e due i volumi devo dire la verità è proprio questa che l'esperienza non è mai abbastanza nel senso che il pericolo tra virgolette è sempre lì se si fanno le cose con troppa leggerezza l'esperienza aiuta non tanto a evitare il pericolo quanto a gestirlo a essere in grado di uscirne un po come come andare a camminare in montagna se se mi passi il paragone se sei se sei esperto riesci a fare fronte ad ogni emergenza se non lo sei rischi grosso insomma se parti senza l'attrezzatura può essere pericoloso non tanto pericoloso per la vita o per la sanità quanto proprio il rischio di stare male che insomma non è bello e soprattutto penso che vada un po a a rendere poi inutile l'esperienza no già voglio dire la vita in questo periodo non è semplice in assoluto è già fonte di tante sollecitazioni non credo che sia il caso di fare un'esperienza psichedelica e uscirne in condizioni peggiore di quando ci sei entrato possibilmente ecco è auspicabile il contrario che uno possa trovare in sé risorse per fare meglio quello per cui è qui su questo pianeta quindi il bad trip se uno rispetta le controindicazioni che ci sono a livello fisico e a livello psicologico ci sono delle patologie che vietano l'utilizzo se uno tiene in considerazione questo se sa quali sono le regole di sicurezza del set setting ragionevolmente il bad trip è praticamente impossibile ci possono essere a quel punto delle esperienze impegnative sfidanti ma sono quelle poi che veramente ti arricchiscono dopo queste esperienze ne esci con maggiori comprensioni quindi non bisogna aver paura delle sfide questo sia nell'esperienza interiore che nell'esperienza poi della vita di tutti i giorni però ecco sempre sapere chi sei che ci sei avere sempre questa questo punto di riferimento questa scintilla che è io è necessario nella vita di tutti i giorni e lo è ancora di più all'interno di un'esperienza così concentrata e anche così amplificata così anche con degli aspetti di caricatura che è l'esperienza psichedelica quindi ricordarsi sempre che ci sei far attenzione a non cadere nella identificazione ecco in quel momento lo puoi fare diciamo in condizioni addirittura migliori secondo me nell'esperienza psichedelica di quello che può succedere nella vita perché quantomeno sai che sei in una condizione particolare che ha un inizio che ha una fine e ti sei anche in qualche modo tutelato esatto eccetera eccetera leggendo un po questi due libri e chiacchierando con te quello che che mi viene da pensare proprio che questo tipo di esperienza sia un'amplificazione della della vita intesa come viaggio esplorativo verso il riconoscimento di se stesso che questo diciamo è la descrizione del percorso spirituale detta proprio in estrema sintesi quindi mi pare che questo sia uno strumento che ti porta ad amplificare sul momento il percorso più generico forse che stiamo facendo con l'incarnazione sbaglio sì questo questo sicuramente è vero tante volte mi succede all'interno dell'esperienza di ripensare a quello che ho scritto ea rendermi conto di quanto è difficile in realtà rappresentare in una forma utile quindi che serva a comunicare qualcosa ad altri quello che avviene all'interno dell'esperienza è sempre un'approssimazione il raccontarlo nero su bianco però sì quello che tu dici è assolutamente vero ed è vero anche che c'è molto di più perché noi non affrontiamo quell'esperienza semplicemente con la testa che abbiamo e tutto è amplificato ma siamo dentro all'esperienza amplificata eccetera eccetera ma anche con una testa che funziona in un modo diverso e questa combinazione produce un qualcosa che è unico è una sorta di distorsione funzionale forse si darei cioè come posso dire parlare di esperienza psichedelica non sto invitando nessuno a farlo però con qualcuno che non l'ha mai fatto è impossibile nel senso che l'altro non capirà non potrà mai capire esattamente che cos'è è come spiegare a qualcuno il sapore di una banana se uno non l'ha mai assaggiata non glielo puoi spiegare sì e lì è solo una questione di un senso quello del gusto e anche quello dell'olfatto che insieme contribuiscono a darti la percezione gustativa lì invece c'è proprio anche la percezione di chi sono cosa è reale cosa non è reale i miei pensieri le mie emozioni io cioè è proprio un cambiamento tanto è vero che come dicevamo l'altra volta nelle culture sciamaniche questo è l'utilizzo appunto di queste sostanze ma adesso non lo so se i funghi ma è abbastanza all'ordine del giorno insomma penso a castaneda o alla ayahuasca come si chiama ayahuasca nella cultura sudamericana o i funghi le amanite nella cultura sciamanica siberiana per cui sì sì c'è c'è una familiarità è uno strumento che viene utilizzato dalla notte dei tempi quindi è un senso direi quello che stiamo dicendo si può essere è uno strumento come possono essere strumenti digiuni deprivazioni danze che ti portano allo sfinimento ci sono veramente e quindi ecco in questo senso si sono tutti strumenti che ti aiutano a entrare in uno stato di coscienza rifacendomi a castaneda che ha citato prima è un po letteralmente come spostare il punto di unione e quindi questo ti permette di entrare in sintonia con una dimensione diversa ecco in qualche modo di poter percepire quello che tu dai per scontato che è reale in realtà spostandoti ti accorgi che la realtà non è solo quella ecco quanto meno non che sia il reale ma quanto meno non è le cose sono un po diverse da come da come credevi ecco questo è il risultato spesso di una esperienza psichedelica intensa che a volte richiede poi anche un grosso lavoro di integrazione perché quello su cui tu avevi fino ad oggi puntato come basi di riferimento per muoverti nella nella vita nella realtà quando ti accorgi che non sono così vere e le cose vere in realtà sono tutt'altre può essere un momento anche molto difficile e in questo senso la parte legata all'integrazione del mio del mio secondo libro è importante perché alla fine poi queste cose le devi mettere a posto perché se non le metti a posto non vivi bene insomma in qualche modo ecco questo è un po rischio di certe esperienze traumatiche che se non le metti a posto ti lasciano poi veramente nei guai e quindi a me piace pensare che si verificano proprio con quel con quell'obiettivo per darci l'opportunità di metterle a posto perché poi mettendole a posto recuperiamo quelle quelle nostre potenzialità a cui evidentemente non stiamo dando l'attenzione necessaria e quindi la vita in un modo in un altro ci porta lì ecco bene du spero di che con questa chiacchierata abbiamo abbiamo riattivato un po di curiosità su questi temi che a mio avviso sono interessantissimi so che c'è un gruppo abbastanza attivo su facebook su questo tema a cui sono prontamente iscritta perché appunto inviti a farlo eh all'interno del libro e e quindi ecco se se magari è un modo per essere in contatto eh io ho anche una pagina autore su su facebook chi mi scrive comunque gli rispondo sempre molto volentieri quindi sì su facebook come si chiama il gruppo in questo momento funghi magici istruzioni per l'uso responsabile sicuramente in calce poi metteremo i link precisi sia della pagina autore che del del gruppo e poi ci sono altri modi per continuare a seguirti mi farei sì ho un blog è un blog shroomcircle.com che è il cerchio dei funghi magici e ti anticipo che eh nei prossimi giorni uscirà anche il terzo libro che ha disegno è stato una sorpresa anche per me è diciamo più legato a alle domande frequenti che ho ricevuto nel corso di questi anni su questioni molto pratiche anche banalmente su l'essiccazione dei funghi anche però sono cose che comunque sono state eh richieste molto spesso e a questo punto ne ho approfittato infatti io ho impiegato un mesetto per fare questo libro dall'anno e mezzo del precedente ti sarà sembrata una passeggiata l'ho iniziato il giorno dopo la pubblicazione è stata una sorpresa qui volevo raccontare un aneddoto a una carissima amica che vive eh in Australia e ci siamo ogni tanto ci sentiamo per per raccontarcela un po e lei eh fa le carte eh eh tarocchi da 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 sempre e quindi mi ha fatto un giro di carte e mi ha detto ah ma vedo che eh a breve pubblicherà il terzo libro io non avevo ancora finito cioè stavo per pubblicare secondo ho detto ma che che posso cioè sono spremuto ho detto proprio letteralmente tutto quello che potevo dire ho messo nero su bianco non ho proprio la più palle idea e lei fa no no guarda che eh è proprio così e tu adesso non lo sai perché non l'hai ancora pubblicato ma appena l'hai pubblicato saprai che eh dovrai fare un terzo libro ma pensa e questo succedeva eh tipo non so una decina di giorni prima della pubblicazione del libro il 20 di settembre eh 2021 ho pubblicato il secondo libro e tu non ci crederai io il 21 ho iniziato a scrivere il terzo nooo e comunque vi terremo informati su questa cosa vero che non che non passi inosservata eh non appena non appena uscirà ve lo sapremo dire e seguite Tripsom eh nei suoi nei suoi canali appunto lo saprete che bella cosa un manuale pratico quindi in sostanza sì sì un libricino un libricino sì però vedi quando quando queste cose succedono in questa maniera qua che tu non lo sai non l'hai premeditato non l'hai pensato ma ti viene perché è bellissimo è bellissimo non l'avrei mai detto e il giorno dopo l'ho iniziato che bello che bello guarda mi vengono i primi a pensare perché sono proprio le sincronie che ti fanno capire che c'è che c'è un disegno più grande è vero bene abbiamo detto del blog metteremo qui sotto anche un indirizzo mail eventualmente giusto sì e dopo ti passo eventualmente rivolgersi se avete delle domande delle perplessità ma comunque all'interno del gruppo visto è proprio una sorta di forum in cui eh si possono fare qualunque tipo di domande e se non è Tripsom in persona rispondere sono altre persone molto molto competenti e quindi è è bello la la l'atmosfera che si respira lì dentro è proprio molto familiare mi è piaciuto molto non ho interagito perché appunto non è non ne so niente se non quello che ho letto però la la sensazione e l'energia che c'è in questo gruppo è molto bella per cui siete interessati agli argomenti ve lo consiglio veramente non è un gruppo in cui ci sono troll o o disturbatori o cose di questo tipo no proprio è molto carino familiare di condivisione bellissimo il mio mondo il mondo in cui mi piace vivere ecco quindi grazie Tripsom per per questa bella chiacchierata per tutte le informazioni che ancora una volta ci hai dato e ci sentiremo per il terzo prestissimo un abbraccio per averci ascoltato per averci dato un po della vostra attenzione ciao a tutti grazie Giovanna ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti